Giovedì sera alle ore 21 si ride all'Arena San Pietro di Caltanissetta con il triangolo No Trio, protagonista di Ogni lasciato e perso, ultimo appuntamento di una rassegna che ha incontrato il consenso del pubblico. Come nasce questa storia? Nasce dalla penna sapiente di Antonello Capodici, il nostro autore e regista che ormai negli anni segue il trio con tanta passione e dedizione. È una nuova produzione, un ultimo spettacolo, questa volta il trio è in una formazione allargata, quindi scena insieme a noi ci saranno anche altri attori. Ed è una storia che riguarda un po' tutti e parla fondamentalmente dei rapporti di coppia tra uomo e donna e delle occasioni che man mano vengono lasciate per strada e poi vengono alle volte ritrovate. Lo spettacolo segue quelle che sono un po' le nostre tradizioni da trio, cioè il genere di spettacolo è quello della farsa, spinta fino ad arrivare al cabaret e anche a coinvolgere il pubblico e quindi a rompere la quarta parete. Ormai è una caratteristica che distingue i nostri spettacoli, il coinvolgimento in alcuni momenti dello spettacolo appunto del pubblico che ci ha reso un po' così più conosciuti e ci identifica appunto come tipologia di spettacolo. Il quarto appuntamento, il bilancio della stagione è positivo nonostante il momento storico che stiamo attraversando non è dei migliori, è una boccata di ossigeno e la speranza che finalmente si possa ripartire e si possa tornare a vivere il teatro come era prima di questo lockdown e di tutto ciò che è riguardato gli ultimi anni e speriamo che appunto possa essere di buon auspicio per la stagione invernale che ci accingiamo a preparare per la prossima stagione.